Ieri una fronda dei 5 Stelle in qualche modo si è staccata da quello che è il patto PD 5 Stelle a sostegno di Manfredi, il centro-sinistra si spacca sempre di più in queste e le prossime elezioni. Sarà una campagna elettorale tutta da scrivere, sbaglia chi pensa che già è scritto il ballottaggio Manfredi Maresca, è una campagna elettorale molto aperta, la gente ha dimostrato che alla fine nelle campagne elettorali a sindaco vota molto la persona, valuta con attenzione tante cose, è un quadro molto frastagliato e molto fluido, molto starà la capacità dei candidati, quindi la campagna elettorale è lunga, se pensiamo che si dovrebbe votare i primi di ottobre, sono 4 mesi pieni, è lunga, è ancora lunga, bisogna vedere anche quale sarà lo schieramento finale e come si può vedere i patti che si fondano a Roma e che magari si consumano in un caffè in un qualche quartiere della città, non vuol dire che diventano vittoria o diventano successo a prescindere, io la vedo molto complicata soprattutto per chi pensa di avere già la vittoria in tasca.